Gesù ha ancora un corpo umano? In altre parole, Gesù è risuscitato con un corpo umano oppure è risuscitato solo nella sua divinità? Gesù è ancora il figlio dell'uomo oppure è solamente il figlio di Dio da dopo la resurrezione? Sappiamo che Gesù si è incarnato come uomo, ma quindi la domanda è è ancora un uomo oppure è ritornato a essere il figlio di Dio esattamente come era prima di incarnarsi come uomo. Gesù è venuto come un uomo sulla terra, è l'Emmanuele che significa Dio con noi. L'Apostolo Giovanni scrisse nel prologo del suo Vangelo sull'incarnazione di Gesù e la parola si è fatta carne ed abitato fra di noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito proceduto dal Padre, piena di grazia e di verità. E nei primi versetti del prologo del suo Vangelo Giovanni aveva presentato Gesù come il creatore dell'universo, dicendo che senza di lui nessuna delle cose fatte era stata fatta. Perciò il prologo di Giovanni ci presenta Gesù in quanto creatore che diventa come una delle sue creature. Gesù che è Dio, che è il creatore, assume la natura umana, cioè diventa come una delle sue creature. E l'Apostolo Paolo, riflettendo sull'incarnazione di Gesù, scrisse in 1 Timotio 3 al versetto 16, e senza dubbio grande è il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne. Quello che è un mistero è come le due nature, quella divina e quella umana, fossero unite in un unico essere. Gesù è l'unigenito figlio di Dio. E unigenito significa unico. Gesù era unico nel suo genere, cioè era l'unico essere nell'universo ad essere contemporaneamente Dio e uomo. E non mi piace pensare che Gesù fosse 50% Dio e 50% uomo. Non è in questo modo che dobbiamo intendere la sua natura. Gesù sulla terra era 100% il figlio di Dio e 100% il figlio dell'uomo. E le due nature erano misteriosamente unite in un'unica persona, Gesù di Nazareth. Quindi Gesù era pienamente Dio sulla terra, nello stesso modo in cui era pienamente Dio in cielo prima di incarnarsi. E contemporaneamente Gesù era pienamente uomo, e ne abbiamo parlato in una puntata precedente dove abbiamo affrontato la natura umana di Gesù. Che Gesù ha la nostra stessa natura umana da dopo il peccato, però la natura umana di un uomo decaduto, ma dopo la sua conversione. Quindi Gesù è un uomo esattamente come me, solamente dopo la mia conversione. La Bibbia ci parla di che cosa è successo pochi istanti prima dell'incarnazione di Gesù. Ci riporta le parole che sono state pronunciate dal figlio di Dio in cielo pochi istanti prima di incarnarsi come uomo. Troviamo queste parole nell'Epistola agli ebrei e sono in realtà una citazione del Salmo 40, ma sono applicate da Paolo all'incarnazione di Gesù. Leggiamo questo testo veramente interessante, ebrei capitolo 10, i versetti dal 5 al 7. Perciò, entrando nel mondo, Egli, cioè Gesù, dice Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Allora io ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Quindi queste sono parole che il figlio di Dio ha pronunciato in cielo al Padre pochi istanti prima di incarnarsi come uomo, pochi istanti prima di diventare un embrione nel grembo di Maria. E il testo dice che Gesù è venuto, venuto sulla terra, per fare la volontà di Dio. Gesù è venuto per fare la volontà del Padre, per vivere una vita di perfetta ubbidienza in favore dell'uomo e poi per sacrificare la propria vita, per coprire le colpe degli uomini. Ma come è entrato nel mondo Gesù? Qui il figlio di Dio disse al Padre, tu mi hai preparato un corpo. Questa è la citazione del Salmo 40, tu mi hai preparato un corpo. E qui viene applicata l'incarnazione. Il figlio ha detto al Padre, tu mi hai preparato un corpo, per addempiere quella promessa che era stata fatta in Eden, quattro millenni prima, dove Dio aveva detto ad Adamo ed Eva che la progenie della donna avrebbe schiacciato la testa al serpente e quella progenie sarebbe stata il figlio di Dio in persona. Un uomo nato da donna, come scritto in Galati 4, versetto 4. Quindi per nascere come uomo, per essere progenie della donna, Gesù doveva assumere la natura umana su di sé. E in quell'istante Gesù pronunciò, anzi il figlio di Dio dovremmo dire, pronunciò queste parole in cielo e lo Spirito Santo prese il figlio di Dio e in un istante lo fece diventare un embrione nel grembo di Maria. Quindi un istante prima il figlio di Dio era lì in cielo, come era sempre stato, davanti agli angeli e lo Spirito Santo avrebbe concepito il figlio di Dio. Questo era quello che l'angelo aveva detto a Maria. Quindi lo Spirito Santo prese il figlio di Dio, lo fece sparire improvvisamente dal cielo e riapparire come un embrione nel grembo di Maria. Ma in quell'embrione c'era la divinità del figlio di Dio. Lo so che stiamo scavando in temi veramente profondi e forse per certi versi anche misteriosi. Quindi il corpo umano che il padre aveva preparato per l'incarnazione del figlio si sarebbe sviluppato nel grembo di una donna proprio come ogni altro essere umano. Solo che Gesù era stato concepito dallo Spirito Santo e quindi non aveva un padre biologico. Era il figlio di Dio che aveva assunto la natura umana e quindi Gesù è il figlio di Dio e il figlio dell'uomo. E perché Gesù si sviluppasse, diventasse un bambino, fosse pronto a nascere, ci sono voluti nove mesi come per tutti gli altri bambini. Ma lì era il figlio di Dio che si stava sviluppando in una forma umana all'interno del grembo di una donna ebrea. L'Apostolo Paolo, riflettendo sull'incarnazione e sull'umiliazione che Gesù ha subito nell'incarnazione, il creatore che diventa come una creatura, scrisse queste meravigliose parole in Filippesi del capitolo 2. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gesù era in cielo in forma di Dio, ci dice il testo, però annichilì se stesso, cioè annullò se stesso, abbassò se stesso, assumendo la natura umana, ma non si spogliò della sua natura divina. Gesù sulla terra era Dio tanto quanto era Dio in cielo prima di incarnarsi. Ma non capiremo mai quale infinita umiliazione stata per Gesù incarnarsi come uomo, il creatore che diviene come una delle sue creature, perché Gesù ha assunto la natura umana con tutte le limitazioni che la natura umana ha. Gesù era Dio prima di incarnarsi, e lo abbiamo detto lo è rimasto anche durante tutta la sua vita terrena, ma noi non capiremo mai cosa significa, cosa significherà, cosa ha significato per Dio diventare uomo. Non lo capiremo mai perché noi non siamo mai stati Dio, quindi non ci siamo mai abbassati a diventare qualcosa di infinitamente inferiore. Ma Gesù era Dio e come Dio Gesù era il figlio di Dio, dovremmo dire più precisamente, in cielo era stato onnipotente, onnisciente e onnipresente. Cioè come figlio di Dio, in cielo, il figlio di Dio poteva fare ogni cosa, era onnipotente, sapeva ogni cosa, era onnisciente e poteva essere in qualunque luogo, era onnipresente. E quando era sulla terra Gesù ha scelto di vivere senza mai usare i suoi poteri divini a suo vantaggio. Gesù non ha mai usato la sua onnipotenza per esempio a suo vantaggio o per risparmiarsi delle sofferenze e così anche con l'onniscienza Gesù non ha mai usato la sua conoscenza per risparmiarsi delle sofferenze o delle prove. Gesù non ha mai usato le sue prerogative divine a suo vantaggio perché altrimenti non sarebbe stato un esempio perfetto per noi uomini. Non ha mai usato i suoi poteri divini come scorciatoia per semplificarsi la sua vita terrena. Quindi Gesù pur essendo pienamente Dio sulla terra ha affrontato la vita esattamente come un uomo dipendendo costantemente dalla potenza dello Spirito Santo del quale era ripieno fin dal suo concepimento. Per riflettere un po' su quale umiliazione infinita è stata per Gesù la sua incarnazione come uomo. Voglio prendere queste tre prerogative divine una per una per farvi pensare l'onnipotenza, l'onniscienza e l'onnipresenza. Gesù era stato, era onnipotente in quanto figlio di Dio era onnipotente cioè aveva il potere di fare ogni cosa non c'era niente di troppo difficile perché Dio può fare ogni cosa. Gesù aveva creato mondi, aveva creato l'intero universo e solamente con la sua parola ma sulla terra non faceva nulla da se stesso. Infatti troviamo queste parole in Giovanni al capitolo 5 Gesù disse di se stesso in verità in verità vi dico che il figlio non può far nulla da se stesso se non quello che vede fare dal padre. Le cose infatti che fa il padre le fa ugualmente anche il figlio e poi Gesù ancora aggiunse io non posso far nulla da me stesso. Gesù agiva nella potenza che il padre gli donava tramite lo Spirito Santo e quindi pur essendo onnipotente in quanto figlio di Dio però come figlio dell'uomo Gesù quando per esempio doveva fabbricare una sedia nella falegnameria di suo padre non la creava semplicemente parlando sia la sedia e la sedia fu. Gesù non barava, non si risparmiava la fatica ma Gesù doveva usare tutti gli utensili, tutti gli strumenti di un falegname e sudare per costruire quella sedia. Gesù era onnisciente cioè in quanto Dio conosceva ogni cosa ma sulla terra aveva bisogno di crescere in conoscenza. Non so se ci avrete mai riflettuto. Il fatto che Gesù doveva crescere in conoscenza e in avere vissuto una vita perfetta anche sulla terra non è che ha mai imparato dai suoi errori perché errori non ne ha mai fatti però pur sempre Gesù ha dovuto imparare. Questo lo troviamo in uno dei pochi brani che parla dell'infanzia di Gesù in Luca 2,52. Sentite queste parole e cerchiamo di comprendere le implicazioni di quello che è scritto. Dice il testo e Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù cresceva in sapienza quindi diventava sempre più saggio pur essendo perfetto. Non è che doveva migliorare perché era imperfetto ma Gesù cresceva in sapienza e in conoscenza cioè cresceva anche intellettualmente poi dice anche in statura quindi cresceva anche fisicamente ma cresceva anche mentalmente. Quindi pur essendo onnisciente Gesù ha dovuto imparare cose nella sua vita. Ha dovuto imparare dai suoi genitori, dalla natura e dalle sacre scritture. Gesù ha dovuto imparare anche le cose che riguardavano Dio, il Padre e anche ciò che concerneva, in che cosa concerneva la sua missione. Gesù ha dovuto imparare che era il Figlio di Dio, che era il Messia venuto a sacrificare se stesso per la salvezza dell'umanità. E quindi Gesù diceva ciò che sentiva dire dal Padre e dipendeva da lui anche per quello che doveva dire, non dalla sua onniscienza ma dal Padre. Troviamo ancora nel Vangelo di Giovanni questo brano, al capitolo 12, perché io non ho parlato da me stesso ma il Padre che mi ha mandato, egli stesso mi ha comandato che cosa devo dire e annunziare. Quindi come uomo Gesù ha dovuto dipendere completamente dal Padre. Infine Gesù era anche onnipresente. Poteva essere in ogni luogo nello stesso tempo in quanto Dio, però mentre era sulla terra, per esempio quando si trovava in una città, Gerusalemme, doveva andare per esempio a Capernaum in Galilea, doveva viaggiare, non poteva essere in entrambe le città allo stesso tempo. Quindi quando voleva spostarsi doveva camminare, sudare, stancarsi e sporcarsi per le strade polverose della Palestina proprio come ogni altro uomo. Gesù aveva perciò anche bisogno di mangiare, di bere, di riposarsi e di dormire proprio come ogni altro uomo. Gesù si è sottoposto volontariamente alle limitazioni della natura umana. Stiamo parlando a lungo dell'incarnazione di Gesù perché è importante, prima di rispondere alla domanda, se Gesù ha ancora un corpo umano dopo la resurrezione, prima di tutto è stato importante gettare le basi e capire che cosa ha significato per Gesù diventare uomo, quale grande umiliazione è stata per lui e tutto solo per salvare noi. Creature ingrate, ribelli e immeritevoli. Infatti l'Apostolo Paolo, riflettendo sull'incarnazione di Gesù e il suo valore per la salvezza, scrisse in 2 Corinthians 8, 9, voi conoscete infatti la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per noi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Gesù era ricco e qua Paolo intende Gesù era Dio mentre era in cielo, ma si è fatto povero, cioè, è diventato uomo, si è abbassato, perché noi che eravamo poveri spiritualmente potessimo essere ricchi, cioè perché noi che eravamo ingiusti potessimo ricevere la giustizia di Cristo ed essere salvati, perché Gesù è stato disposto a umiliarsi e a portare su di sé la condanna che era nostra. E ora che abbiamo parlato dell'incarnazione a lungo, rispondiamo alla domanda centrale di questa puntata. Gesù è rimasto uomo anche dopo la risurrezione, ha ancora un corpo umano, è ancora il figlio dell'uomo, oltre che essere il figlio di Dio. Vediamo che cosa dice il Nuovo Testamento a riguardo, e l'insegnamento è molto molto chiaro. La sera della risurrezione Gesù apparve agli apostoli, i quali all'inizio si spaventarono nel vederlo. Andiamo a vedere il racconto di Luca, capitolo 24. Gesù disse agli apostoli, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Quindi Gesù disse chiaramente che aveva carne e ossa, cioè un corpo umano. E vedendo i discepoli stupiti, Gesù, per rassicurarli e per confermare la verità delle sue parole, cioè che aveva ancora un corpo umano, disse loro di dargli del cibo. E quindi i versetti successivi di Luca 24 dicono, ed essi gli apostoli, di diedere un pezzo di pesce arrostito e un favo di miele, ed egli li prese e li mangiò in loro presenza. Gesù mangiò quel cibo per dimostrare la verità delle sue parole, che aveva un corpo umano. Gesù è risuscitato con un corpo umano glorificato, è ancora il figlio di Dio. Gesù non ha mai smesso nemmeno per un istante di essere il figlio di Dio. Dall'eternità passata, Gesù esiste da sempre, è il figlio di Dio e lo è stato in ogni istante, anche mentre era nel grembo di Maria, era il figlio di Dio, mentre era un uomo sulla terra, era il figlio di Dio. Quindi lo è certamente da dopo la risurrezione, ma pur essendo rimasto e non avendo mai smesso di essere il figlio di Dio, Gesù è rimasto anche il figlio dell'uomo. Troviamo conferma di questo negli scritti dell'Apostolo Paolo. In Filippesi 3, 20-21 Paolo disse, la nostra cittadinanza infatti è nei cieli, da dove aspettiamo pure il Salvatore, il Signore Gesù Cristo, il quale trasformerà il nostro umile corpo affinché sia reso conforme al suo corpo glorioso. Qui Paolo sta parlando della nostra beata speranza, del ritorno di Gesù e quando Gesù ritornerà noi saremo mutati, trasformati in un batter d'occhio, scrisse in prima Corinzi 15. E il nostro corpo, dice questo passaggio, sarà reso conforme al suo corpo glorioso. Quindi dopo la risurrezione, al ritorno di Gesù, i giusti, i salvati avranno un corpo umano glorioso, cioè perfetto, incorruttibile, conforme al corpo glorioso che Gesù ha in questo momento. Paolo scriveva ai Filippesi dopo la risurrezione. Quindi parla del corpo glorificato di Gesù che Gesù ha preso alla sua risurrezione e noi avremo un corpo simile al suo, alla nostra risurrezione. E scrivendo a Timoteo decenni dopo la risurrezione, Paolo disse, vi è infatti un solo Dio ed anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Cristo Gesù, uomo. Quindi scrivendo decenni dopo la risurrezione, Paolo disse, Cristo Gesù, uomo. È l'unico mediatore tra Dio e l'uomo perché è l'unico che ha entrambe le nature. Gesù è l'unico che può intercedere davanti a Dio per gli uomini. Ha la natura di Dio e anche la natura dell'uomo. È il perfetto mediatore. Se Gesù non fosse risorto come uomo non potrebbe essere il nostro mediatore non avrebbe potuto compiere un ministero di intercessione in nostro favore. Quindi perché è importante sapere che Gesù è risuscitato con un corpo umano glorificato? Rifletti. Il Gesù che è tornato in cielo all'ascensione, quindi 40 giorni dopo la risurrezione, era diverso dal Figlio di Dio che era in cielo prima dell'incarnazione. Gli angeli che hanno riaccolto Gesù in cielo, che hanno riaccolto, dovremmo dire, il Figlio di Dio in cielo, hanno riaccolto Gesù di Nazareth, colui che aveva sì ancora la natura divina ma che ora aveva assunto la natura umana e l'aveva conservata anche dopo la risurrezione. Quindi Gesù che è salito al cielo dopo la risurrezione non era lo stesso nella sua natura rispetto al Figlio di Dio prima dell'incarnazione. Prima dell'incarnazione era solo il Figlio di Dio, dopo la risurrezione e l'ascensione Gesù è il Figlio di Dio e anche rimane il Figlio dell'uomo. Quindi diventando uomo Gesù ha alterato per sempre la sua natura, Gesù ha alterato per il resto dell'eternità la sua persona, perché rimarrà uomo per i secoli dei secoli, per tutta l'eternità futura e tutto questo solo per addempire il piano della salvezza, solo per avere te nel suo regno eternamente insieme a lui. Gesù ha alterato se stesso. Abbiamo detto che incarnarsi come uomo è stata un'umiliazione infinita per Gesù, il creatore che diventa come una delle sue creature ebbene riterrà questa natura umana per il resto dell'eternità. Questo non sminisce affatto la sua divinità. Gesù è, lo abbiamo detto, Dio adesso tanto quanto era Dio prima dell'incarnazione e lo era anche sulla terra, ma voglio dire che questa umiliazione infinita sarà qualcosa che durerà per sempre. Gesù ha alterato per sempre la sua natura, rimarrà uomo per il resto dell'eternità e quindi per l'eternità Gesù sarà uno di noi, legato alla famiglia umana con un legame indissolubile. Il rapporto che Gesù avrà con i redenti sarà ancora più stretto di quello che avrà con ogni altra creatura, perché Gesù non è uno degli angeli, Gesù non ha la natura di un angelo e quindi seppure ama perfettamente gli angeli ed è perfettamente amato dagli angeli, ma non è uno di loro. Invece con i redenti Gesù avrà un legame speciale, unico, perché i redenti potranno dire che Dio nella persona del figlio è uno di noi e Gesù potrà dire dei redenti io sono uno di voi, pur essendo anche infinitamente superiore in quanto Dio. Ma capite che Gesù si è legato alla famiglia umana con un legame indissolubile, Gesù si è donato alla famiglia umana per sempre. Quindi Gesù è uno di noi, è il nostro fratello maggiore. Sul trono dell'universo siede il figlio dell'uomo, il nostro fratello maggiore nella carne. E nella nuova terra Gesù sarà più vicino all'umanità, all'umanità redenta, di quanto lo sarebbe stato senza la caduta di Adamo ed Eva. Questo è un pensiero forse strano da contemplare, però vorrei che rifletteste insieme a me. Prima della caduta Gesù era il nostro creatore, era il creatore di Adamo ed Eva, ma a causa del peccato Gesù è diventato anche il redentore di Adamo ed Eva e di tutti i loro discendenti, cioè di tutta l'umanità. Provate a pensare, un angelo non ha bisogno di un redentore. Gli angeli che sono rimasti fedeli a Dio non hanno bisogno di un redentore. Gesù è il loro creatore ma non è il loro redentore perché non hanno mai peccato e quindi non hanno bisogno della grazia di Dio. Un angelo non sa cosa significa ricevere la grazia di Dio. Un angelo non ha mai chiesto perdono per un peccato perché non ha mai peccato. Non sa cosa significa confessare in lacrime, in preghiera un peccato a Dio. Non sa cosa significa essere stato salvato per la grazia di Dio. Invece i redenti saranno per l'eternità i trofei della grazia di Dio e potranno dire che Dio nella persona del figlio è uno di loro e quindi Gesù ha un legame con i redenti ancora più stretto di quello che aveva con Adamo ed Eva prima della loro caduta. Perché se Adamo ed Eva appartenevano a Dio per diritto di creazione, ora i redenti nel regno di Dio apparterranno a Dio due volte per diritto di creazione e di redenzione e Gesù sarà uno di loro e in Cristo perciò la famiglia della terra è stata accolta nella famiglia del cielo per che non mi serve. Ma è più.